Ok, stiamo ora ad analizzare quella che era nata come la risposta povera al Colt, e cioè il President JFK, 120 canali AM-FM, dotato di doppio modulatore ma che nulla ha a che vedere con i famosi apparati Colt. Questa radio è caratterizzata dalla potenza variabile e dal Roger Bip escludibile. Accendiamo ora la radio e vediamo come si comporta su carico fittizio. Allora, prima di tutto proviamo la modulazione. Da notare che io ho il Mi Gain a metà. Hola, 1, 2, 3, hola, prova, hola, 1, 2, 3, hola, prova. Il Bip è molto secco, un Bip moderno. Proviamo ora a fare dell'autoscolto. Hola, 1, 2, 3, hola, prova. Hola, per curiosità mettiamo il Mi Gain a manetta, forse innesca. Hola, hola, 1, 2, 3, hola, infatti non posso tenerlo a manetta perché le due radio sono abbastanza vicine. Crea un'innesco. Hola, così c'è il Mi Gain a ore 3. Hola. È una radio che modula piuttosto bene, secondo me. Ciao. Ciao. Grazie.